Prima sconfitta per il Pescara, terzo successo di fila per la Vispesaro, questa la sentenza uscita fuori dal lanci-match del Benelli. Ma è una squadra, quella di Baldini, che recrimina per la direzione arbitrale e che ha costruito tantissime palle-gol nonostante l'inferiorità numerica. A dirigere è Domenico Castellone di Napoli, Vissini pericolosi in avvio con il tiro alto di Cannavò. Risponde subito il Pescara al sesto con il pericoloso diagonale di Bentivegna. Qualche secondo dopo ancora i marchigiani con Ocoro che va via in velocità, Pizzari è attento e chiude la porta. Svolta è negativo per gli abruzzesi al minuto 23, squizzato, già ammonito commette fallo ed il direttore di gara lo espelle sventolandogli il secondo giallo. Nonostante l'inferiorità numerica la squadra di Baldini spinge, 33esimo, il colpo di testa di Pierozzi su azione d'angolo e disinnescato dal volo di Vukovic. Si arriva alla ripresa ed i biancazzurri a testa bassa attaccano l'estremo di casa, l'ottavo deve in angolo la fiondata di D'Agasso. Sulla battuta del corner, trattenute in area, ci prova Pierozzi, salva la difesa Vissina sulla linea. I padroni di casa, nonostante la superiorità numerica, sono rintanati, anche se al sedicesimo su azione in velocità trovano la rete decisiva. O'Coro brucia la difesa e con un pallonetto beffa Pizzari. Qualche minuto di sbandamento per il Pescara, al 27esimo la punizione di Di Paola viene alzata in angolo. Inizia il rascio finale degli abruzzesi alla ricerca del pari, al 34esimo Vukovic attento sul tentativo di Pierozzi, estremo bianco-rosso ancora decisivo su D'Agasso al 42esimo, mentre un altro salvataggio sulla linea vanifica la conclusione ravvicinata di Pierozzi. Spezza la pressione L'Avis-Pesaro che sfiora il raddoppio con Nicastro, un ottimo prima del novantesimo, ma in pieno recupero è ancora decisivo il numero uno di casa, respingendo il tentativo ravvicinato di Merola. Vince L'Avis, schiuma rabbia il Pescara, che avrebbe meritato senza dubbio di più.